Il Comune di Cerignola si costituirà parte civile nel processo contro gli autori dei reati ambientali compiuti nelle campagne del Foggiano ed emersi nell'inchiesta Blackland condotta dalla Procura di Foggia. La delibera è stata approvata dall'Aggiunta Comunale dopo che un'analoga decisione era stata già adottata dal Consorzio di Igiene Ambientale del bacino Foggia 4. E' assolutamente necessario, ha detto il sindaco Antonio Giannatempo, intraprendere azioni forti ed urgenti a tutela delle nostre città per lanciare un segnale chiaro ai gruppi criminali campani che traggono profitti colossali dallo smaltimento illegale dei rifiuti e anche a chi, come i proprietari dell'azienda cerignolana e compiacenti, ha permesso che si perpetrasse tale scempio. E' fuori discussione, infatti, che senza il loro consenso sarebbe stato difficile per i malfattori lo sversamento abusivo. Delibera a parte, nelle ultime ore i comuni del Consorzio hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, chiedendo un incontro urgente per discutere delle conseguenze prodotte sulle popolazioni locali dall'esistenza di numerose discariche abusivi inquinanti nel territorio della Capitanata, un pericolo più volte evidenziato dalle recenti inchieste giudiziarie che hanno riguardato anche la provincia di Foggia. Ad oggi, però, non sarebbe arrivata nessuna risposta.